E oggi prepariamo un rotolo di tacchino super farcito, morbido e ricco di gusto. Sbattete le uova in una ciotola, poi fate cuocere la frittata da ambo i lati. Fate cuocere gli spinaci solamente con un filo d'olio, bastano 15 minuti. Prendete un foglio di carta forno, adagiate le fettine sottili di tacchino in modo da formare un rettangolo. Aggiungete poi la frittata, le fettine di formaggio, parte del lardo e gli spinaci cotti in precedenza. Aiutandovi con la carta forno, arrotolate e chiudete bene il rotolo a caramella ben stretto. Fate riposare per 30 minuti in frigorifero. Versate dell'olio sul fondo della teglia, chiuserete per fare la cottura. Riprendete il rotolo dal frigorifero, aggiungete sulla superficie le restanti fettine del lardo. Adagiatelo poi nella teglia, unite le foglie di salvia e il rametto di rosmarino. Sfumate con il vino, fate cuocere 180 gradi per 40 minuti.